Ben trovati con l'informazione a cura di Meteocalabria.net. Continua il bel tempo grazie alla presenza dell'anticiclone delle Azzorre. Segnaliamo temperature in aumento nei prossimi giorni con caldo localmente intenso nelle località di pianura. Mercoledì 22. Cielo poco nuvoloso sulle Tirreniche per venti deboli di Ponente, sereno sul resto del territorio regionale. Mari poco mossi, calmo quasi calmo, solo l'Alto Ionio. Temperature in generale rialzo con valori diurni fino a 35-36 gradi fra Valle del Crati e Sibaritide. Tempo tipicamente estivo anche per giovedì 23 luglio. Persistono caldo e bel tempo salvo qualche addensamento più consistente al pomeriggio su Pollino e Sila. Mari calmi o tutt'al più poco mossi. Grazie per l'attenzione, appuntamento al prossimo aggiornamento. Grazie. Grazie.